non ci crederete ma per questo papillon story e per la sala vintage dove il papillon story si svolge è passato dal chirurgo plastico anche il simbolo del papillon guardate la farfalla luminosa che nel 1979 ha dato vita a questa sala e direi che il chirurgo plastico ha fatto un ottimo lavoro il blu e il ciclamino sono i due colori fondamentali e anche lo sponsor di questa serata il parrucchiere edos di monteroni darbia ha pensato a mettere un tocco di classe adornando le teste di tutte le ragazze che lavorano qui con il ciclamino e l'azzurro perché la classe non è acqua aiuto aiuto la vecchiaia la vecchiaia ma questi ma chi sono chi sono io bisogna vado a cercare qualcuno che mi aiuti lo intravedo lo intravedo vocalist venga un po qua il vocalist dimmi chiara senti la memoria mi ha abbandonato ma chi so questi ha abbandonato anche lui la memoria ma come mai sono qui secondo te non lo so te me lo sai dire resterà un'incognita fino a quando non si sa l'unica cosa che non è un'incognita è Nello perché Nello è ancora il nostro vocalist il vocalist del Papillon Story è qui anche se è raffreddato solo per numero uno vi aspetto il 7 novembre al Papillon Story numero 5 number 5 grazie a tutti